Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo gli E-Flight XING E-PRO, motori di fascia economica ideali per drone FPV, se volete acquistarli trovate il link in descrizione. Questa serie di motori è presente in una grande varietà di misure e KV. Abbiamo i 2207 con 1800, 2450 e 2750 KV, i 2208 con 1800 e 2450 KV, e i 2306 con 1700 e 2450 KV. Le versioni a 1700 e 1800 KV sono per lipo a 6 celle, mentre i 2450 e i 2750 sono da usare con lipo a 4 celle. Ogni motore arriva dentro la sua scatolina, facciamo subito un unboxing veloce. All'interno della confezione troviamo il motore, un dadotto bloccante e 4 viti per frame con braccetti da 4mm. Io ho scelto la versione 2306 da 1700 KV, quindi li userò su una build A6S. Il cavo è in silicone da 20AWG ed è lungo 15cm. Il peso è di 33.5 grammi. Il motore è di tipo open bottom e possiamo notare che l'avvolgimento dello statore è a singolo filo, questo dovrebbe garantire prestazioni leggermente migliori rispetto a motori con avvolgimento a tre fili. La distanza statore e magneti è buona, anche se leggermente superiore a quella di altri motori su questa stessa fascia di prezzo. I magneti poi non mi sembrano tutti uguali e questo sicuramente è dovuto dalla natura economica di questi motori. La campana è fissata al motore tramite vita esagonale, soluzione ormai standard anche su motori economici, per quanto riguarda i fori invece questi hanno la distanza di 16x16mm. L'albero motore è in acciaio cavo ed è alto 13mm. Come notiamo la base ha questi quadratini che aiutano a non far slittare l'elica ad alte velocità. Il dado è un autobloccante M5 in alluminio, tutti i motori di questa serie hanno un unico dado con filettatura in senso orario. Ormai quasi tutti i motori delle varie marche hanno solo un tipo di filettatura, ma questo non è un problema perchè il dado autobloccante se è ben stretto non si svita. Magari ogni cambio lipo, soprattutto se avete fatto qualche crash, verificate che i dadi non si siano allentati. Molto bene è venuto il momento di testare questi X-Singai Pro con l'RC Benchmark 1520, come sempre userò tre eliche dal pitch diverso, una col pitch basso, una col pitch medio e una col pitch alto. Come lipo userò una CNHL serie Black da 6 celle a 100C. in questo video, in questo video vi faccio vedere se non ci sono differenze molto marcate tra le varie eliche che ho usato per questo test. Ormai uso queste eliche da diverso tempo e la differenza di spinta che c'è tra quella col pitch più basso e quella col pitch più alto di solito si fa notare molto di più. Sebbene la spinta rimanga sempre simile, il consumo di Ampere e la potenza sviluppata crescono proporzionalmente. Questo si traduce in un rapporto di efficienza mediamente più basso rispetto a quello che ho avuto modo di trovare su altri motori. Anche se c'è questa piccola anomalia sul thrust che fa abbassare l'efficienza, i motori si sono comportati tutto sommato bene generando una spinta accettabile. Sicuramente non sono motori da abbinare ad eliche con un pitch alto, in quanto non si ha un incremento prestazionale così marcato rispetto all'aumento dei consumi. A mio parere il target ideale per questi motori è chi sta assemblando un drone economico da Freestyle, e vuole usare dei motori tutto sommato reattivi e scattanti. Se invece cercate dei motori dalle alte prestazioni allora sicuramente si trova di meglio. A tal proposito potete valutare i T-Motor VeloX2 che ho recensito da poco sul canale, vi lascio il link al video in descrizione. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione degli X-Sing e Pro, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso i link in descrizione o diventando miei Patrons cliccando il link a fine video. Grazie. 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 Grazie.